Non c'è un parcheggio, è incredibile! E mi è diventato impossibile parcheggiare qui! Uffa! Dove la metto? Eccolo! Oh no! Pensavo fosse un parcheggio libero! Vabbè, non importa, faccio un altro giretto! Quando la tua correttezza ti disturba, disturbala con Radical Shock! Ma sai che c'è? Che per 5 minuti cura sticazio, volevamo dire... E andiamo! Chi è? Grazie al principio attivo a base di molecole di sticazene, Radical Shock spegne la tua correttezza in un attimo! Vabbè, un attimo! Torno subito, non è che... Dico, tanto stai seduto, non è che te stanchi, no? Ah, poi invece mi mette mai in giro proprio oggi! Ma poi dove ne andrà? Perché non se ne stanno a casa, dico io! Radical Shock uccide la correttezza e torna la dolcezza! Oh, cammina, vai? Sì, cammina pure io! Buonasera! Grazie!